Ed eccoci al vostro spazio. Questo spazio è tutto quanto per voi, dedicato ai vostri dubbi, ai vostri quesiti legali. Mandatemi le vostre video domande al numero WhatsApp che vedete in sovraimpressione e io vi risponderò su questo canale e non dimenticate mai la parola d'ordine. Questa è la legge. Buonasera, avvocato greco. Volevo porre alcuni quesiti. Se io vendo la nuda proprietà, posso continuare a percepire il canone di affitto da un inquilino? L'altro quesito è l'Imu e le spese condominali straordinarie. Devo pagarle io o le deve pagare il nuovo proprietario? Grazie. Questa è la legge. Salvo patto contrario tra le parti, solo l'usufruttuario percepisce i frutti derivanti dall'immobile e quindi non è il nudo proprietario a poterlo dare in affitto, ma l'usufruttuario. O esordito, salvo patto contrario. Come chiarito dalla Cassazione in una recente ordinanza, se c'è l'accordo tra nudo proprietario e usufruttuario, il primo, il nudo proprietario, può concedere l'immobile in affitto. Quindi egli può firmare il contratto e andarlo a registrare a proprio nome. Di conseguenza avrà anche il diritto di riscuotere i relativi canoni, come ho detto sempre con l'autorizzazione dell'usufruttuario. L'inquirino in affitto non potrà quindi appellarsi a fatto che il contratto non riporta la firma dell'usufruttuario per negarne la validità e non pagare le pigioni mensili al locatore. Si pensi al caso di una donna che, dopo aver ceduto la nuda proprietà della propria casa alla figlia, decida di andare a vivere da quest'ultima per ricevere assistenza materiale. La figlia, benché nuda proprietaria, può comunque affittare l'appartamento a lei intestato, ma in usufrutto alla madre che ormai vive da lei. E può procedere anche alla registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate. È chiaro che, in assenza di patto contrario, a poter dare in affitto l'appartamento è solo l'usufruttuario, non potendosi in tal caso ingerire il nudo proprietario se non appositamente autorizzato. Chi paga invece le tasse sull'affitto in caso di usufrutto? A dover versare le imposte sui canoni di locazione è il locatore, ossia colui che ha firmato e registrato il contratto. Pertanto, nel caso in cui questi sia stato il nudo proprietario, i canoni concorrono a determinare l'imponibile del suo reddito. Sarà quindi il nudo proprietario, in qualità di effettivo locatore, a versare le imposte sui canoni di affitto percepiti e non l'usufruttuario? Chiaramente le sorti si invertono se l'affitto viene stipulato dall'usufruttuario. Il pagamento delle imposte, i canoni, le rendite fondiarie e tutti gli altri pesi che gravano sull'immobile spettano all'usufruttuario. Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto, i carichi si ripartiscono tra il nudo proprietario e l'usufruttuario in proporzione alla durata del rispettivo diritto. Nel caso in cui l'immobile su cui grava l'usufrutto faccia parte di un condominio, bisogna stabilire chi paga le spese condominali, il proprietario o l'usufruttuario. Secondo la Cassazione, le spese condominali di amministrazione ordinaria, ossia quelle dovute mensilmente per la conservazione e il godimento delle parti comuni, nonché per i consumi delle utenze, come ad esempio acqua riscaldamento centralizzato e via dicendo, sono a carico dell'usufruttuario che è pertanto considerato condomino. Spetta invece al nudo proprietario pagare tutte le spese condominali che ineriscono alla manutenzione straordinaria, come ad esempio quelle relative alla riparazione dell'edificio o alle innovazioni. Bene amici, ci vediamo al prossimo appuntamento delle videoconsulenze. Vi ricordo ancora una volta il numero in sovraimpressione per mandarmi le vostre video domande e io vi risponderò per quanto possibile. Questa è la legge. Questa è la legge.